Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. In questa puntata parliamo di mercati finanziari con testo globale e prospettive e ne parliamo con Flavio Carpenzano, Senior Portfolio Manager Fixed Income di Allianz Bernstein e con Maurizio Novelli, gestore di Lemanic Global Strategy Fund. I mercati finanziari stanno subendo un po' la situazione di questa guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti che sta diventando più che altro anche una guerra fredda, nel senso che i due paesi stanno lottando tra di loro per poter avere poi l'egemonia e un ruolo internazionale e restare per quanto riguarda gli Stati Uniti il paese di riferimento anche con la propria moneta come moneta di riferimento. Questa guerra commerciale, quindi guerra fredda come l'abbiamo definita, può allungare moltissimo i tempi per quanto riguarda un ritorno e soprattutto una sicurezza di una ripresa internazionale. L'Europa segue e cerca di barcamenarsi in questa situazione, ma vediamo un po' meglio qual è lo scenario macroeconomico con i rischi e le opportunità che si presentano. Carpenzano. Sì, grazie mille. Nel senso, come diceva lei, giustamente viviamo uno scenario macroeconomico di incertezza, nel senso che c'è un rallentamento nella crescita economica a livello globale, in parte guidato dalla Cina, in parte guidato dagli Stati Uniti, soprattutto in seguito al mancato impulso fiscale che va via quello dell'anno scorso e l'Europa che, come diceva giustamente lei, segue. Uno degli aspetti fondamentali, nel senso il motivo per cui ci aspettiamo un rallentamento è chiaramente la guerra commerciale fra gli Stati Uniti e la Cina. Da questo punto di vista è importante, secondo me, mettere a fuoco un paio di aspetti. Uno, ricordiamo che fra i due litiganti, per così dire, fra America e Cina, in realtà chi ci rimette è l'Europa. L'Europa è un'economia aperta, in quanto aperta ovviamente quella che verrà impattata maggiormente da una distruzione o comunque una disruption, diciamo così, nell'offerta globale. Quindi questo è il motivo per cui vediamo un rallentamento nell'economia europea, soprattutto in Germania, nel settore manifatturiero. È chiaramente il paese che viene maggiormente impattato da queste tensioni. Detto questo, Cina ovviamente inizia a subire un rallentamento dovuto a queste tensioni. In maniera importante la Cina comunque, diciamo che ha l'abilità e gli strumenti per attenuare questa crescita. Gli Stati Uniti, in maniera simile, diciamo, sono meno impattati da questa guerra commerciale, perché l'America resta comunque un'economia guidata dalla domanda interna. Secondo me quello che ultimamente e più di recente è interessante invece è la ripresa del conflitto fra gli Stati Uniti e il Messico, nel senso che la potenziale reintroduzione di tariffe dagli Stati Uniti al Messico, soprattutto dopo, appunto, sembrava esserci una risoluzione e un accordo fra l'America e il Messico, crea ulteriori condizioni di incertezza, condizioni di incertezza nel senso della credibilità della politica di Trump e della sua amministrazione, nel senso che anche nel caso in cui il conflitto fra l'America e la Cina dovesse risolversi nelle prossime settimane, non necessariamente vuol dire la fine di un conflitto, ma in realtà ci aspettiamo che queste tensioni a livello geopolitico, non soltanto tramite le tariffe, possano continuare in futuro e quindi impattare l'economia. Quindi chiaramente viviamo in una situazione di incertezza, è interessante vedere come le politiche monetarie andranno a rispondere. In certezza però ha dei mercati comunque stabili, perché la fiducia mi pare che si continui a preservare sul mercato finanziario. I mercati sono stabili, ma quando si scatenano poi dei trigger come l'anno scorso diventano improvvisamente instabili, per cui la stabilità in realtà non è qualcosa che è garantita. Quello che secondo me è abbastanza preoccupante sono i motivi del rallentamento che noi stiamo subendo di economia internazionale, perché nella realtà la guerra commerciale sta cominciando a produrre danni solo da gennaio in avanti, perché l'intescambio commerciale tra Cina e Stati Uniti nel 2018 ha segnato un più 10%. Questo vuol dire che l'intescambio commerciale non aveva ancora prodotto dei danni tra l'America e la Cina in generale, aveva prodotto danni sul resto dell'economia mondiale, ma per motivi diversi. Il primo motivo è che la Cina e l'America hanno impostato una crescita dell'economia estremamente basata sull'indebitamento. La Cina ha indebitamento pubblico e privato, diciamo corporate, per sostenere gli investimenti fissi e gli Stati Uniti con un bel trend di indebitamento sul settore privato, in particolare i consumi. Il credito al consumo è uno dei driver principali della crescita dell'economia americana, tanto che oggi i consumi interni fanno il 75% del PIL americano, ma il 30% dei consumi interni dipendono dal credito al consumo. Quindi ogni 100 dollari che vengono spesi in un negozio, 30 dollari sono dipendenti dalle carte dal credito, tramite carte di credito, consumer credit in generale. Questa dinamica aveva già iniziato a manifestare dei rallentamenti sul fine dell'anno scorso. Negli Stati Uniti c'è stato un netto calo dell'erogazione del credito al consumo, avevamo circa 20 miliardi di dollari al mese di nuovo credito al consumo. Nei primi 3 mesi di quest'anno siamo scesi a 10, quindi c'è stata una contrazione molto significativa. Ad aprile c'è stato un recupero, però il trend è una riduzione del credito al consumo e quindi il primo rallentamento dell'economia americana dipende da questo motivo. Il rallentamento dell'economia cinese lo vediamo nei dati dell'export verso la Corea, le esportazioni coreane, Taiwan, tutto il sud-est asiatico hanno una contrazione media di circa il 20% delle esportazioni verso la Cina. Questo vuole dire che c'è un calo deciso della domanda interna in Cina. Poi sopra ci possiamo mettere il condimento della guerra commerciale, che questo rischia di peggiorare un ciclo che era arrivato in una fase molto matura per il debito che si era creato, che la Fed in qualche modo ha peggiorato l'anno scorso aumentando il costo di questo debito e poi adesso ci aggiungiamo anche la dinamica dello scontro commerciale che probabilmente non riusciamo a risolvere in poco tempo, che rischia in qualche modo di peggiorare decisamente lo scenario nei prossimi mesi in termini di crescita. Sono paesi che comunque entrambi vogliono mantenere una forte liquidità proprio per contrastare questa situazione, questa guerra di dazi. Assolutamente, nel senso che la Fed ha già annunciato l'anno scorso, al fine dell'anno scorso c'è stato questo cambio di tendenza, se pensiamo fino all'anno scorso i mercati si aspettavano un rialzo dei tassi, oggi i mercati si aspettano un ribasso dei tassi negli Stati Uniti, quindi c'è sicuramente l'intenzione o comunque la volontà delle banche centrali sia in Cina che negli Stati Uniti di dare liquidità e di mantenere i tassi più bassi, l'abilità è un po' diversa, nel senso che la Cina comunque vuole mantenere una moneta relativamente forte, quindi non vuole andare a svalutare il Re Bimbi perché vuole mantenere il Re Bimbi come valuta internazionale, quindi la Cina deve bilanciare un po' questo equilibrio. Negli Stati Uniti secondo me è interessante come la Fed reagirà, come si diceva le tensioni commerciali fra America e Cina non hanno ancora avuto un impatto sulla crescita, è interessante vedere se la Banca Centrale Americana taglierà i tassi in maniera preventiva, nel senso che le tensioni hanno avuto un impatto sul business confidence, però sui dati ancora non si vede, se la Fed si muoverà in maniera preventiva potremmo già vedere un taglio dei tassi già a giugno, luglio di quest'anno, se non lo dovesse fare la Fed corre il rischio di stare behind the curve, quindi di essere più in ritardo e in quel caso si troverà in una situazione in cui dovrà poi tagliare i tassi in maniera più rapida e più incisiva e quindi possibilmente riportarli a zero, quindi molto probabilmente la Fed avrà questo taglio dei tassi più bilanciato che potrebbe già iniziare da quest'anno. Detto questo ovviamente ha la possibilità di farlo dovuta anche a un'inflazione bassa, nel senso che negli Stati Uniti l'inflazione è pressoché, non voglio dire inesistente come in Europa, però comunque resta al di sotto del target della Fed del 2% e questo secondo me è un cambio più che altro di lungo termine nella politica monetaria americana e di voler riflazionare l'economia anche perché è un modo per andare a ridurre il debito di cui si parlava prima in termini reali, il debito lo si riduce anche aumentando l'inflazione. Anche la Cina comunque è decisa di mantenere una fortissima liquidità, no? Sì, tutti vogliamo mantenere la liquidità il più elevata possibile nel sistema, anche perché la priorità principale delle banche centrali è cercare di mantenere la propensione al rischio più alta di sempre, perché questo sistema deve mantenere una propensione al rischio altissimo per continuare a finanziare debito speculativo in percentuali molto elevate, noi oggi abbiamo nel sistema una percentuale di debito speculativo molto più alta rispetto al picco del 2007, abbiamo il 30% mediamente di subprime nel settore del credito al consumo, abbiamo un trillion di leverage loans solo nell'economia americana che sono quasi il 6% degli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di credito speculativo particolarmente pronunciato e abbiamo una percentuale di high yield mai vista prima nel sistema finanziario mondiale, oggi mediamente in tutto il mondo, su tutti i mercati obbligazionali il 50% delle emissioni sono high yield, nel 2007 erano il 12%, questo è solo per far capire che questa impostazione delle banche centrali ha portato a una altissima propensione al rischio, la caccia del rendimento e questo ha indotto a entrare nel mercato a emittenti con reti molto bassi che sono finanziati esclusivamente dalla massa di liquidità, però è chiaro che qui la situazione si fa un po' critica perché tutti iniettano liquidità nel sistema, però gli Stati Uniti si trovano secondo me in una posizione molto più vulnerabile rispetto a altri paesi, perché la Cina ha un sistema finanziario chiuso, il Giappone ha un avanzo di bilancio dei pagamenti e un avanzo di risparmio con l'estero elevatissimo, l'America ha un debito nei confronti dell'estero in termini di risparmio, nel 2002 prima della crisi economica della scoppia della bolla della tecnologia, l'America assorbiva risparmio dall'estero pari al 52% del suo PIL, nel 2007 il 54%, oggi il 68%, quindi per mantenere le asset class americane a questi livelli devono continuare a assorbire tantissimo risparmio dall'estero e quindi mantenere un dollaro forte, perché se il dollaro si indebolisce questo flusso di capitale verso l'America è destinato a cedere, sono tutte delle situazioni che mettono un po' la banca centrale americana, secondo me è una situazione molto scomoda, perché non puoi avere il dollaro forte e abbassare i tassi di interesse, sono due cose che non sono compatibili tra di loro, così come non sono compatibili tra loro tassi molto bassi e alto rischio del credito, nel senso che la remunerazione del credito speculativo probabilmente se l'economia comincia a cedere e il ritorno sul capitale investito, le bidda delle principali aziende comincia a contrarsi, mantenere un livello di leverage così alto per l'economia americana diventa molto difficile, per cui l'economia americana è vulnerabile indipendentemente da quello che può fare la Fed ai flussi di capitale dall'estero, cosa che altri paesi non lo sono. Quindi la situazione di mercati altamente speculativi, se dovessimo fare un paragone tra il periodo precedente, il 2006-2007, prima che scoppiasse tutto il bubone della crisi internazionale e la situazione di adesso, perché è più o meno… Ma diciamo che da questo punto di vista non sono proprio così d'accordo, nel senso che la situazione in realtà è molto diversa dal 2007 a oggi, non ci aspettiamo in realtà una situazione così catastrofica, nel senso che poi in realtà oggi sia l'economia americana gli squilibri che c'erano nel 2007 non sono più così pronunciati, nel senso ci sono sicuramente delle parti del mercato come la parte corporate a yield o dei bank loans o del credito al consumo che hanno iniziato a mostrare forme di rindebitamento, ma in realtà secondo me l'aspetto, la differenza chiave tra il 2007 e oggi che renderà oggi il sistema più stabile è A il sistema finanziario, quindi le banche americane, B comunque l'indebitamento del cittadino americano medio, nel senso l'indebitamento è molto più basso rispetto al 2007 e le banche sono molto più ricapitalizzate, hanno una qualità degli attivi molto più alta, in realtà se guardiamo dal punto di vista secolare c'è un trend molto forte, nel senso che è vero che il livello di indebitamento mondiale è molto più alto, cioè oggi se togliamo il settore finanziario parliamo di 190 mila miliardi di indebitamento che sono 60 mila miliardi in più rispetto al 2008, quindi c'è stato chiaramente un aumento dell'indebitamento dove si è visto l'indebitamento, chiaramente i governi sotto forma di banche centrali che comprano titoli di Stato e la parte dei corporate, quindi la parte di investment grade e high yield, inclusi bank loans, è dove si è visto questo aumento della leva finanziaria, perché? Perché fondamentalmente le aziende americane non hanno fatto ricorso al canale tradizionale bancario per andarsi a indebitare, il risultato è che oggi quando vai a vedere i settori bancario e del settore al consumo, nel senso del cittadino medio americano, in realtà sono molto meno indebitati rispetto al passato, quindi un sistema finanziario più stabile crea chiaramente un sistema molto più stabile altrettanto. E poi c'è un secondo aspetto che secondo me rispetto ai cicli economici passati, ha incluso anche quel 2007, non ha il tipico aumento della crescita molto forte e poi una recessione molto pronunciata. È vero che stiamo vivendo uno dei cicli economici più lunghi, fra qualche mese sarà il ciclo economico più lungo storicamente. Però è esattamente, ha avuto una velocità molto bassa, la crescita comunque negli ultimi 10 anni è stata del 2%, quindi non abbiamo vissuto crescite molto pronunciata come in passato, che ci porta a pensare che in realtà la recessione arriverà a un certo punto, non ci aspettiamo una recessione nei prossimi 12 mesi, c'è un rallentamento della crescita globale, ma non pensiamo che una recessione sia imminente, ma detto questo anche la prossima recessione sarà forse più moderata, quindi non necessariamente un crollo come abbiamo visto nel 2007, sarà forse più prolungata, più prolungata perché oggi le banche centrali non hanno tutte le cartucce che avevano nel 2007. L'America da questo punto di vista concordo parzialmente che chiaramente può essere una situazione instabile da questo punto di vista, detto questo la credibilità del dollaro come riserva resta comunque forte, vediamo anche la Cina che continua a credere nel dollaro nonostante le tensioni e la Federal Reserve, a differenza della Banca Centrale Europea per esempio, parte comunque da un livello dei tassi molto più alto e quindi diciamo che ha più flessibilità nel combattere una potenziale recessione che sarà secondo me meno pronunciata rispetto alla precedente crisi che abbiamo visto. Quindi possiamo parlare di un'onda lunga nella quale l'Europa deve seguere? Non so, io non condivido molto il fatto che gli squilibri oggi siano inferiori a quelli del 2007, nel senso che i numeri che vedo mi dicono che sono maggiori, perché l'America ad esempio nel 2007 aveva un deficit delle partite correnti pari al 22% del PIL, oggi è al 55% del PIL, secondo me è chiaro che sono posizioni di leva nei confronti con l'estero, cioè richiedono un tale flusso di finanziamento dall'estero che l'Europa, il Giappone, ma anche forse la stessa Cina non devono continuare a canalizzare risorse finanziarie verso il sistema americano se volessero crescere veramente, perché anche la Cina dice che cresce al 6% ma sappiamo tutti che non è vero. Quindi il dato di fatto è che noi ci troviamo in un modello di crescita dove solo un'economia assorbe risparmio e fa debito e penalizza la crescita di tutte le altre, questo richiede un costante afflusso di capitali verso l'America che devono continuare però a fare debito per continuare a crescere, perché se l'America non fa debito non riesce a crescere, perché è un sistema basato sulla cosiddetta credit driven economy, la credit driven economy ha un grande vantaggio, si basa sul fatto che i salari rimangono bassi e la gente per consumare deve fare debito, quindi il mio reddito reale in realtà è dato dalla mia capacità di indebitarmi, questo è un modello che ha dei limiti, perché così come i paesi hanno un limite di debito sul PIL, caso dell'Italia, così anche i consumatori hanno dei limiti di debito sul reddito reale. Anche le statistiche che riguardano l'indebitamento medio della popolazione americana, che fanno vedere l'indebitamento medio che si è contratto molto rispetto al 2007, in realtà quello che conta è l'indebitamento mediano, cioè se io metto nelle medie i redditi di Bill Gates, di Bezos, di Amazon e di tutti i grandi plurimiliardari americani probabilmente l'indebitamento medio della popolazione scende, ma se io prendo solo per fasce, per quintili o quartili di reddito e faccio una riclassificazione solo per quelle percentuali, scopro che in realtà il debito è rimasto uguale al piccolo del 2007 e cioè 200% del reddito reale. Ecco, in una situazione di questo tipo, quali strategie di investimento e quali prospettive possono avere i mercati? Dobbiamo essere un po' brevi perché… Assolutamente no, ma concordo con il discorso, un ammontare così alto del debito ha un impatto di rallentamento sulla crescita, detto questo poi da un punto di vista di investimento è proprio questo, avere un'allocazione nel mercato obbligazionario è ancora secondo me rilevante perché ci aspettiamo di vivere uno scenario nei prossimi anni, non solo in un'ottica ciclica, di una crescita bassa e di inflazione bassa, che se pensiamo un po' una forma del Giappone, da questo punto di vista sicuramente l'Europa forse sta muovendo forse molto più verso il Giappone, ma anche in America stessa una crescita bassa e un'inflazione bassa forzerà comunque le banche centrali a mantenere i tassi molto bassi, quindi nel futuro non ci aspettiamo assolutamente un rialzo dei tassi, anzi ci aspettiamo un abbassamento dei tassi, quindi avere duration, quindi andare a comprare titoli e obbligazioni nel portafoglio ha ancora sezzo, soprattutto perché continua a proteggere nel downside, quindi se effettivamente la situazione mondiale dovesse deteriorare, avere treasury americano è quello che aiuta sempre in situazioni di ribasso, quindi se non avere una componente obbligazionaria è ancora interessante, detto questo ci sono componenti del credito molto interessanti, penso ai mortgage americani piuttosto che ai titoli subordinati finanziari che offrono ancora rendimenti attraenti in dollari fra il 6-7%, quindi rendimenti ancora attraenti e fondamentali comunque molto forti per quello che si diceva prima, dovuto al deleveraging e quindi riduzione del debito delle banche e del settore americano al consumo. Lei è d'accordo? Io condivido assolutamente questa view, infatti anche noi nelle nostre strategie privilegiamo scadenze molto lunghe, treasury americani con scadenze trentennali, abbiamo cominciato a ricomprare il Bund a 30 anni, quasi tutti i bonds dell'area Euro trentennali, perché pensiamo che i tassi anche sulla parte più lunga della curva diventeranno negativi, mi aspetto una pronunciata inversione della curva dei rendimenti negli Stati Uniti, quindi noi siamo molto bullish sulla parte lunga della curva da tanti mesi, già sulla crisi dell'anno scorso abbiamo cominciato a accumulare decisamente posizioni su tutte queste scadenze decisamente lunghe. Quello che vedo è un grosso rally dell'oro che è appena iniziato, probabilmente è destinato a intensificarsi, perché chiaramente se la Fed mantiene questa aspettativa di riduzione dei tassi, ovviamente qui il dollaro ha cominciato a cedere un po' sui mercati, siamo a 1,13 contro Euro, anche contro Yen fa molta più fatica a svalutarsi, a rivalutarsi, nonostante la Banca del Giappone continua a stampare monete in modo consistente, ormai è da circa due anni e mezzo che lo Yen non riesce più a svalutarsi contro dollaro, questo secondo me è un indicatore di ceglimento dei cari tra i giapponesi verso l'area del dollaro, perché se no non si spiega come mai con la Banca centrale giapponese che continua a fare quanti dettivisi, nella sostanza lo Yen si rafforza negli ultimi due anni contro dollaro, quindi lo Yen è un altro, secondo me è un altro punto interessante che può essere inserito in un portafoglio come protezione in caso di eventi negativi e per quello che riguarda l'equity forse che è la cosa che interessa molti investitori, io sono molto negativo sulle prospettive di recupero dei mercati, sia in Europa che negli Stati Uniti, siamo arrivati a un picco di espansione dei profitti aziendali comunque, quindi c'è già un cedimento della redditività aziendale in generale, il fatto che possano scendere i tassi probabilmente all'inizio può tenere lì un po' la propensione al rischio, se però poi il ciclo come pensiamo rischia di subire ulteriori contrazioni, poi dopo lì si aprono scenari di possibile ulteriore caduta dei mercati azionari da qui alla fine dell'anno. Va bene, staremo a vedere, dato di fatto è che comunque tassi bassi, crescita bassa per un periodo ancora abbastanza lungo. Bene, siamo arrivati al termine della nostra puntata, ringrazio molto Flavio Carpenzano, signor portfolio manager di Fixed Income di Allianz Bernstein e Maurizio Novelli, gestore di Lemanic Global Strategy Fund. Arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle fonti TV. Grazie a tutti.